Si chiama Arte Gusto, l'iniziativa messa in campo dalla Camera di Commercio di Pescara che punta a stupire buyers provenienti dall'estero presentando le eccellenze del territorio con visite organizzate sui territori di produzione così da integrare l'aspetto commerciale con quello turistico. I paesi oltre all'Italia ovviamente coinvolti sono il Kazakistan, la Turchia e il Regno Unito una grande opportunità per il nostro sistema economico, per le nostre imprese è un'opportunità che si rinnova perché Arte Gusto è la seconda edizione in cui la Camera di Commercio nuovamente si focalizza per dare un'occasione anche alla piccola impresa di conoscere da vicino e affrontare dei compratori internazionali. Tra l'altro quest'anno rispetto all'anno scorso avremo anche i tour operator quindi ci saranno compratori dei prodotti, investitori e anche tour operator interessati a creare pacchetti su misura per i turisti di questi paesi ecco un connubio interessante tra turismo e produzione. I paesi protagonisti del progetto rappresentano i cosiddetti mercati emergenti quelli in forte espansione. Quindi la Turchia diventa per questo grande scenarista uno dei paesi chiave per la crescita del business. Il Regno Unito è una certezza, è un paese dove le nostre aziende già da molti anni operano è al tempo stesso però un paese che ha ancora bisogno dei nostri prodotti e poi il Kazakistan è davvero una sfida entusiasmante perché questi compratori e tour operator sono davvero appassionati d'Italia è un paese che ha anche lì degli indici di ricchezza molto alti e quindi anche persone in grado di comprare quello che viene definito il bello e ben fatto italiano.